Risarcimento per i familiari del sommozzatore palermitano morto nel 2019 secondo i giudici a causa dell'amianto respirato sulle navi della Marina. Il Tribunale di Roma ha condannato il Ministero della Difesa a risarcire i familiari di Salvatore Carollo di Palermo per una somma complessiva di 950 mila euro. Lo ha reso noto l'Osservatorio Nazionale Amianto.